Buongiorno, benvenuti in Tofana. Io voglio dire, andiamo, non ho neanche un altro. Quindi, un, due, tre, andiamo, dai! Dai, dai! Buongiorno, buongiorno! Ora, andiamo alla scuola. Questa è l'equisto! E' l'equisto del cuore! Tutto sul patrimonio Oh, la, mer! È più l'accento! È più l'accento che la mia è ingredientsi! È più l'accento di cultura! È più l'accento! È più l'accento! Ossiede megano Dessai nemm pas ce que serve 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 no 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 se Ha il paio il rangeria nel parking Non per andare al piso Non, ma il problema è che mi piace molto più Ma l'A60 è bene C'è un po' a venire Non, non, non Non, non, non Non, 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 non Non, 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 non Non, non, non E poi a forza di guardare la camera Non, 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 non E poi a fare l'ambito E poi a fare l'ambito E poi a riferi Grazie a tutti! Grazie a tutti!